I detti popolari o le arguzie popolari escono dalla saggezza popolare, da una saggezza che oggi è più difficile incontrare anche sulle labbra, sulla bocca della gente. Legati al mese di novembre ne citiamo qualcuno. Tre si rifanno all'11 novembre, San Martì. A San Martì stapo al Vì e a Nidal comincia a Tastal. Il secondo suona così, il piccolo estate di San Martì è durato tre giorni in Ciappelli. Il terzo, sette ore fa per fare del tot isì, le damo i praci prima di San Martì. Poi invece ce n'è uno riferito al 25 novembre, Santa Caterina d'Alessandria, protettrice tra l'altro dei Mugnai. A Santa Caterina il Stalo al Bo è là a Chino. Perché dobbiamo ricordare, è giusto farlo, che una volta soprattutto le giubente giovani non venivano alimentate nelle stalle ma in mezzo ai campi. Ecco, l'ultimo giorno in cui i contadini tenevano al pascolo le mucche era proprio il giorno di Santa Caterina. Ce n'è un ultimo a Sant'Andrea, il Ciappol Porcell per l'Abreo.